Interferenze aliene, la storia sta cambiando. Salve amici, sono qui a invitarvi ad un evento pubblico che terrò domenica 4 febbraio 2024 a partire dalle ore 16.30 nella zona di Firenze. Poi tutti i riferimenti li troverete nei nostri social e in descrizione al video. La società umana, amici, sta scivolando inesorabilmente verso il caos e la violenza a tutti i livelli, ma fortunatamente la realtà extraterrestre prosegue nel suo lento ma inesorabile cammino verso la piena rivelazione. Ci sono fatti antichi e moderni che si sovrappongono, che si intersecono e che potenziano la progressiva manifestazione di questa realtà che, ob torto collo, amici, si imporrà alla coscienza di tutta l'umanità, potere compreso. La scoperta dei corpi dissecati non umani, realizzata in Peru, e volgarmente definiti mumia di Nazca, l'accettazione ufficiale all'interno di una legge federale americana dell'esistenza sulla Terra di tecnologie e intelligenze non umane, Le sempre più strabilianti esperienze extraterrestri di Juan Manuel Sanchez, che tutti conosciamo come Juanito Juan, e comunque l'attività extraterrestre a livello globale in genere, formano un gigantesco e meraviglioso mosaico che si compone con sempre più chiarezza. Un mosaico che sarà in grado di abbattere i dubbi e le reticenze dei potenti e dei popoli che, volenti o nolenti, appunto dovranno prendere atto di questa straordinaria realtà. In questo incontro, amici, in questa conferenza pubblica a ingresso libero, affronteremo tutti questi argomenti e, ovviamente, prove alla mano, vedremo chiaramente che le interferenze aliene stanno davvero cambiando la storia, sia dell'umanità terrestre che del pianeta stesso. Una storia che, secondo la profezia, l'epilogo è già scritto, e per chi se lo saprà meritare, amici, questo epilogo sarà meraviglioso. Quindi vi aspetto a Firenze, domenica 4 febbraio, a partire dalle ore 16.30. Non mancate la mia prima conferenza pubblica del 2024, un anno che, a parer mio, ci riserverà veramente tantissime sorprese. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!